Con la chiusura, con il lockdown, la natura ha ripreso a vivere. La gente la addestrava perché si affeziona molto. Ed è l'unico rappresentante dei garmi. Sì, è quello che vuoi fare. Sulla questione degli uccendi, naturalmente, ecco, bellissimi cosa ero stati di vedere. Non mi potete zoomare a questo punto. Un lungo corteggiamento noto. Mi dai, bacetti sul collo, guarda che cosa. Ci facciamo se volete un ultimo giro a piedi. Ecco. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.